Julio 1935, sulla pista del Nürburgring si corre il Gran Premio di Germania, dove è previsto il successo di una vettura tedesca dopo le strepitose vittorie conquistate dalla Mercedes e dall'Auto Union sui circuiti di mezza Europa per la gloria del Terzo Reich. L'Alfa Romeo, con l'ormai superata P3, sembrava destinata ad andare incontro all'ennesima delusione stagionale, ma Tazio Nuvolari, che aveva già compiuto 43 anni e che molti consideravano al tramonto della sua leggendaria carriera, avrebbe invece ottenuto un trionfo unico nella storia delle corse, compiendo quella che viene ritenuta la sua più grande impresa. Tazio Nuvolari nasce a Casteldario, a pochi chilometri da Mantova, il 16 novembre del 1892. Soltanto nel 1920 comincia a correre in moto e dall'anno successivo alterna le due alle quattro ruote. Gli basta un lustro per conquistare da centauro vittorie e fama di temerario. Tazio però vuole sfiorire il suo talento correndo in automobile. L'anno della svolta è il 1930, la sua ultima stagione in moto, in cui ottiene un eccezionale successo nella Mille Miglia con un'Alfa 1750. Nel 1931 si consacra definitivamente campione, imponendosi per la prima volta nella impossibile Targa Florio, cui si riferiscono queste preziose immagini. La gloria di Nuvolari, la gioia in ogni corso. Quando hai cominciato a correre per una pianta di Nuvolari è macchiata da un episodio che tuttora fa discutere. Nel 1933 al Gran Premio di Tripoli viene abbinata una lotteria con un monte premi di 8 milioni e mezzo di allora, valutabili circa 10 miliardi di oggi. I cavalieri del rischio, guidati proprio da Tazio, non resistono e organizzano una clamorosa convine, accordandosi fra di loro e con i possessori dei fortunati biglietti cui sono accoppiati per spartirsi l'intero bottino. La pastetta è una cosa che serve. Un altro grande campione italiano domina le scene degli anni 30, Achille Varzi. E come sempre l'Italia si spacca in due. Da una parte i tifosi di Nuvolari, simbolo di coraggio e improvvisazione, dall'altra quelli del freddo distaccato Varzi. Anche se dalle caratteristiche opposte sono due autentici fuoriclasse, ma nel tempo Nuvolari è destinato a diventare un mito, mentre Varzi deve accontentarsi di essere solo il rivale di Tazio. Nuvolari vinceva anche quando... Nel 1934 con la scuderia Ferrari riesce a partecipare a 16 gare, ne vince 9 e in 6 o 7 si classifica. Da di se stesso è l'immagine vincente, l'immagine che colpisce, l'immagine che ancora oggi in fondo... Io ho detto Nuvolari questa volta, perché lui entrò a tavoletto nella curva, puntava all'interno della curva, quindi diceva questo, poi davo un colpo di sterzo, un colpo di freno, questo non si è mai saputo, la macchina subiva o della pace e lui si trovava con la macchina di rita nella direzione della marcia. Ecco perché introsesmava la folla. Nell'Europa in cui prevalgono le dittature fasciste, mentre si allungano le ombre di guerra, le automobili e le corse automobilistiche rappresentano un eccezionale laboratorio di ricerca e sperimentazione. Negli anni 30 l'automobile, la tecnologia dell'automomento in cui l'aeroplano, che sarà successore dell'automobile come elemento propulsore della ricerca tecnologica, sta per sopra, tutti all'automobile degli anni 30, in tutti i suoi apporti sia tecnico... Ti hanno portato via. La Formula 1 oggi è la massima espressione sportiva dell'automobile, applicazione delle tecnologie più sofisticate che hanno contribuito a schiacciare l'immagine del pilota. Ci si chiede dunque se Nuvolari sarebbe stato il mantovano volante anche alla guida delle vetture dei nostri giorni, oppure se la sua leggenda sarebbe stata ridimensionata da una realtà che vuole campioni al servizio dei computer. Oggi non può rinascere, tra il tempo di Nuvolari ad oggi appunto tante cose sono obiettivamente diverse. In più, in più credo che oggi un pilota per essere veramente vinto... Per dare di sé tutto quello che lui voleva e sapeva fare. Nuvolari voleva correre, non solamente per vincere, perché non è giusto che Nuvolari volesse sempre vincere. Nuvolari voleva correre e voleva soprattutto dare dimostrazione delle capacità sue e della macchina. Questo è molto difficile da dire, perché è impossibile di... Paragone, come si dice? Paragone così... Nelle 1938, dopo il terribile incidente di Poe, Nuvolari annuncia la sua intenzione di ritirarsi dalle corse. Si ripresenta invece al Gran Premio di Germania, non alla guida dell'Alfa, ma della tedesca Auto Union. Si parla di tradimento. A un uomo così grande come fu Nuvolari... Non faccio più, gigolo. Ho chiuso con quella vita. Sono libero e solo. Ma adesso non hai più un lavoro. Non importa. Direi così, faticoso condurre. Nuvolari a Monza diede una prova di maestria favolosa. Nella lunga carriera di Nuvolari, quanto mai importante è stato il suo rapporto con Enzo Ferrari, il quale ancora oggi ne parla come del pilota per eccellenza, ricordando anni e imprese irripetibili. Nuvolari è il tipo di pilota... Dopo la guerra, Nuvolari si ripresenta in pista. È un sopravvissuto che non si riconosce più nel mondo che lo circonda. Le vittorie non vengono più, mentre nuovi campioni si affacciano alla ribalta. Nuvolari che corre è anche un modo di vita, ma anche un modo per cercare... Invece non fu esaudito in questo suo desiderio e purtroppo morire sul letto. Questa fu la ragione che spenso Nuvolari a ricorrere dopo la guerra. Quello mai fisicamente era... Era finito. Nuvolari, sempre più malato, amareggiato per la scomparsa dei suoi figli, si trascina da un circuito all'altro. Ma il destino ha previsto per lui, per il grande Tazio, ancora un giorno di gloria, nella Mille Miglia del 48. La Mille Miglia del 48 è con questa macchina, una Ferrari, una delle primissime Ferrari, che ottiene da un amatore privato, il principe Trubetzkoi, che gli cede la sua vettura, alla vigilia della gara. Una macchina che non ha mai provato, entra in macchina e parla, fanghi, eccetera, ma lui cammina, va, va sempre, riesce a avere dei vantaggi incredibili sui suoi immediati inseguitori, fin tanto che la macchina cede. Su Nuvolari, come per tutti i campioni della sua epoca, resta un interrogativo. Ma che uomo era? Il mito di Tazio Nuvolari, un mito che resiste all'usura del tempo, perché autentico come il suo folle coraggio, come la sua concreta bravura, come la sua semplicità nell'affrontare le corse e la vita. Nuvolari, perché io credo che Nuvolari ha unito delle ragioni, secondo me, psicologiche per cui lui esacerbava questo coraggio. Il suono fra questi due piloti di epoche così diverse resta comunque valido. Tazio Nuvolari è stato vittima di numerosi e drammatici incidenti, ma al contrario di Villeneuve, è sempre miracolosamente scampato ai mortali trabocchetti che tutti i piloti incontrano sul loro cammino. All'alba degli anni 50, Nuvolari è un monumento vivente del nostro sport. Per la gioia degli operatori dei cinegiornali dell'epoca si concede qualche innocente esibizionismo. Ma ormai la sua fine è vicina, destinata... Grazie a tutti! Grazie a tutti!